ciao a tutti e benvenuti nella nuova sezione di video dedicati alle releases di itablo rilasciate con la nuova versione 2022.1 io sono isabella e in questo breve video vedremo insieme una funzionalità molto semplice che riguarda la nuova funzione di ricerca su tableau online e su tableau server. tableau ha infatti ripensato la ricerca da zero per garantire che i contenuti più utili siano in cima e quindi maggiormente in evidenza quando si effettua una ricerca in tableau. vediamo ad esempio che cercando la parola superstore i risultati sono filtrabili per contenuto proprietario e per data di modifica. vengono inoltre riportati prima risultati come viste cartelle di lavoro e scorrendo verso il basso vediamo anche dove possiamo trovare i contenuti della ricerca superstore a livello di lenti di origine dati di flussi di tabelle così come database e file. come vedete i risultati i risultati sono classificati in base a segnali come la rilevanza del testo, la popolarità e la frequenza per garantire che tutti gli utenti all'interno dell'organizzazione aziendale possano trovare i dati di cui hanno bisogno per prendere decisioni più rapidi e ovviamente basate sui dati come vediamo. Grazie a tutti